E' assurdo che viaggiando in largo e in lungo il Piemonte in queste ore, in questi giorni io incontri persone che mi dicono il fiume è uscito qui, uguale è uscito nel 2016, uguale stesso posto, stesse condizioni nel 1994. Questo vuol dire che non sono stati fatti gli interventi che era necessario fare e che noi siamo stufi di mettere a rappezzi, mettere a rappezzi non serve a niente, sprechi dei soldi e non garantisci la sicurezza delle aziende e delle famiglie. Per cui la prima cosa che dobbiamo fare è cogliere l'opportunità di questa grave ennesima crisi che colpisce il nostro Piemonte, calamità che colpisce il nostro Piemonte, trasformarla in un'opportunità per risolvere quei problemi che il Piemonte non può più avere. Non possiamo immaginare che la gente decida di andare a vivere ancora in montagna o di tenere le aziende nelle nostre vallate se poi ogni volta che piove gli va l'azienda sott'acqua. Allora di fronte a questa situazione noi abbiamo il dovere come istituzioni e questo lo deve fare lo Stato di semplificare tutta la normativa per quanto riguarda la pulizia degli alvi e dei fiumi. Perché oggi un sindaco che si debba porre nelle condizioni di far pulire il proprio torrente, specie nei piccoli comuni, non ha né l'ufficio tecnico né la struttura per poter predisporre la tale tanta quantità di carta necessaria ad affiancare un progetto di questo genere. Per cui si semplifichi, non si dicano cose non vere perché i soldi i sindaci qua in Piemonte li hanno sempre spesi tutti e bene. Il ministro Costa quando afferma che è colpa dei comuni che non spendono i soldi per mettere in sicurezza le loro realtà dice una cosa che non è vera e soprattutto lo invito a venire qua in Piemonte e invece di stare nel ministero romano venga in Piemonte, venga con i nostri sindaci che in questo momento hanno il fango fino alle ginocchia e che firmando impegni di spesa senza copertura stanno esponendosi a un rischio personale solo per poter fare in modo che le ruspe e che i mezzi vengano a rimettere in sicurezza le loro frazioni, le loro borgate e ad evitare l'isolamento che ancora colpisce tante famiglie nella nostra regione. Oggi la presenza del presidente Cirio come vicinanza al nostro territorio e la necessità di essere tutti coesi a collaborare per superare l'emergenza abbiamo visto che si addita l'emergenza a situazioni che si verificano sempre negli stessi luoghi, sempre negli stessi posti e non è ammissibile che vengano accusati i sindaci piemontesi di non spendere le risorse per l'emergenza tutti i denari alluvionali, tutte le risorse che i sindaci mettono in campo e hanno messo in campo fino ad oggi sono sempre state nella direzione di spendere e spendere bene per la difesa del territorio i sindaci piemontesi che in questi giorni sono in ginocchio, nel fango, ho sentito dei colleghi lavorare e piangere per la situazione dei propri comuni io credo che sia profondamente ingiusto sostenere che le responsabilità devono essere addossate ai sindaci nel non avere speso dei soldi pubblici che in realtà non ci sono stati consegnati per operare ancora maggiore attività di difesa